È un'estate tra le più torride degli ultimi 150 anni, almeno così dicono di certo, stiamo convivendo con temperature percepite elevatissime. La Campania, al pari forse più di altre regioni italiane, anche quest'anno è stata aggredita dagli incendi dolosi da parte di piromani e colposi da parte di chi comincia a bruciare qualche sterpaglia e finisce per far dilagare le fiamme a boschi e macchia mediterranea. L'emergenza riguarda, e come non potrebbe, anche la provincia di Avellino. Ieri è stata una giornata particolarmente impegnativa su più fronti nel Baianese, Monte Falcione, Lapio in particolare, dove le fiamme hanno lambito le abitazioni, i capannoni agricoli, i vigneti e si è reso anche necessario l'intervento di un elicottero, ma fino alla montagna di Montella, a poca distanza dall'eremo del Salvatore. Sono impegnatissimi protezione civile, forze dell'ordine, super impegnati i vigili del fuoco. Da giorni il comando provinciale di Avellino e le sedi distaccate di Grotta Minarda, Lioni, Bisaccia, Montella e Ariano Irpino sono al lavoro senza sosta. Ben trovati a Senti chi parla e benvenuto a Mario Bellizzi, ingegnere responsabile della comunicazione dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. Allora, ingegnere Bellizzi, prima di dare subito uno sguardo a come si presenta la giornata di oggi, la giornata di oggi è cominciata con un intervento anche molto pericoloso che per fortuna si è risolto senza danni per le persone sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Avete cominciato presto stamattina, che è successo sul raccordo? Sì, intorno alle 5 ci sono state numerose chiamate in sala operativa perché il pullman che trasportava i musicisti della banda musicale di Gioia del Colle, che dovevano raggiungere Baiano, durante il percorso l'autista si è accorto di un problema meccanico, ha visto del fumo fuoriuscire dal mezzo, ha accostato per fortuna. Questo fumo poi subito si è tradotto in fiamme, le persone, tutti i musicisti, sono riusciti a uscire. Dopo pochissimi minuti si è raggiunto l'incendio generalizzato che ha coinvolto l'intero mezzo, tant'è vero che il mezzo, i bagagli e tutti gli strumenti musicali purtroppo sono andati distrutti. Ai 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 ai, dispiace per il concerto bandistico di Gioia del Colle, in estate è sempre più frequente su strade e autostrade, in modo particolare, autocombustioni, auto che vanno in fiamme, davvero non c'è nessuna prevenzione da parte di chi si mette in viaggio? Sì, io credo che questo sia legato soprattutto al fatto che aumenta il traffico, quindi aumenta anche il numero in circolazione dei mezzi, quindi magari anche mezzi che solitamente non vengono utilizzati per gli spostamenti anche lunghi, vengono utilizzati, non viene fatta un'adeguata manutenzione a queste autovetture, a questi furgoni e quindi alla fine durante il viaggio si verificano queste situazioni. Che distraggono poi naturalmente unità operative che di questi tempi, di questo periodo evidentemente servono più altrove. Abbiamo cominciato la giornata di oggi sul raccordo Avellino-Salerno, come si presenta in queste ore la situazione in provincia di Avellino, dopo una giornata abbastanza impegnativa come quella di ieri. Sì, al momento non c'è una situazione di particolare criticità dal punto di vista né degli incendi boschivi né per altre tipologie di intervento. Per fortuna, speriamo che sia così per il resto della giornata. Chi provoca gli incendi? Diciamo questo per raccordarci al tema delle temperature elevatissime di questi giorni e di queste ore. Possiamo dire, come pure viene detto autorevolmente, che tranne in alcune aree del pianeta l'autocombustione non è la causa degli incendi nei nostri territori, c'è sempre la mano dolosa o colposa di qualcuno. Possiamo dare per certo questo? Sì, nel senso che l'autocombustione è un fenomeno di innesco appunto abbastanza improbabile, almeno alle nostre temperature, anche se in questo periodo particolarmente alte, ma non tali da poter provocare un processo di autocombustione. Certo, la situazione attuale di temperatura, di clima, determina, favorisce la propagazione, nel senso che abbiamo insieme al vento, che fa il resto. La vegetazione secca e quindi una propagazione molto rapida, però l'innesco, chi genera l'incendio non può essere la temperatura alta. Sicuramente c'è la mano dell'uomo o volontaria, nel senso attraverso un'azione dolosa, oppure attraverso un'azione accidentale. Che pure c'è, ci sono stati arresti anche in provincia di Avellino, denunce. A proposito di denunce, parliamo di incendi colposi, non per questo meno gravi, perché con grande irresponsabilità, per esempio, si accendono, si puliscono i terreni agricoli, si accendono sterpaglie, rifiuti vegetali e poi magari si alza il vento e la frittata è fatta. Molti di questi abbrucamenti, il termine esatto è chiamato... Insomma, sono state anche emanate ordinanze molto, molto severe, per la verità, ma continuano gli abbrucamenti, gli avvistamenti che ci vengono segnalati, continuano imperterriti, direi. Questo ovviamente è un reato, la violazione di questa ordinanza, che diciamo è successiva a un decreto della Giunta Regione della Campania, che vieta almeno fino all'8 ottobre di bruciare l'erba secca, purtroppo questa violazione, che ripeto è un reato, purtroppo questa violazione continua ad essere piuttosto diffusa in tutto il territorio, non soltanto provinciale, ma della Regione Campania. Ecco, gli incendi, ingegnere, penso e non solo a quelli che hanno flagellato nelle settimane scorse la zona vesuviana, pongono ulteriori problemi per l'autunno, le fiamme che distruggono le zone boschive e pedemontane e lasciano campo libero, in autunno appunto, alle frane causate dalle piogge autunnali ed invernali. Quindi, come abbiamo visto anche per gli altri anni, anche questo tipo di successiva emergenza in qualche modo vi aspetta insieme alla protezione civile e a quant'altro. Beh, certo, viene meno in qualche modo l'azione benefica delle radici, delle piante, viene meno in qualche modo l'azione di rallentamento dell'acqua che piove, che comunque si muove sul terreno, quindi tutto questo facilita la possibilità di un cinematismo dei terreni, assolutamente sì. Ecco, da questo punto di vista le maggiori preoccupazioni, che sono cronaca emergenziale quotidiana dell'estate, ma che diventano emergenza autunnale e invernale, per esempio le preoccupazioni riguardano in particolare alcune zone della nostra provincia, penso al Vallo di Lauro, penso a 15, ma penso anche a Montoro, il Monte Salto, che proprio alcuni giorni fa è stato interessato da un incendio, come dire, molto significativo, che dal punto di vista di che cosa ci si aspetta in autunno, beh, insomma, rende preoccupato che cosa si può fare nel frattempo, perché insomma, nel momento in cui gli incendi puliscono, tra virgolette, diciamo così, il fondo, e quindi lo rendono praticamente adatto, funzionale agli smottamenti, alle frane, alle colate di fango, eccetera. Beh, l'attività di prevenzione è in questo caso messa in campo dai carabinieri, perché le sa che ormai il corpo fuo che è stato nello Stato, è stato incardinato nel lato dei carabinieri. Quindi tutta questa politica di prevenzione contro i reati legati comunque agli incendi boschivi viene messa in atto dai carabinieri. Quindi so che i carabinieri fanno una politica piuttosto spinta di prevenzione, anche con l'uso di telecamere nascoste, anche con continui, diciamo, sopralluoghi che vengono fatti anche dall'alto attraverso i droni, per capire, per prevenire qualsiasi tipo di reato che in qualche modo possa generare un fenomeno di incendi boschivi. Per stare in ogni era la nostra, diciamo, casistica provinciale, qual è l'incendio particolarmente impegnativo? Beh, l'incendio particolarmente impegnativo è laddove il terreno è impervio, nel senso laddove i nostri mezzi hanno difficoltà di intervenire, e quindi in quel caso soltanto i mezzi aerei possono intervenire, quindi penso a proprio i veri e propri incendi boschivi, dove non ci sono strade comunque raggiungibili dai nostri mezzi. È vero che noi abbiamo mezzi abbastanza ormai, diciamo, molto duttivi, diciamo, piccolini, 4x4, però in quanto tali hanno anche una bassa capacità di riserva idrica, come ben puoi immaginare. Però, ecco, diciamo, le maggiori difficoltà ne le abbiamo proprio sui terreni, diciamo, sulle zone di alta montagna, per la difficoltà di arrivare con i nostri mezzi, quelli più grandi, con quelli con una maggiore riserva idrica. Ecco, dicevamo gli incendi, ma dicevamo anche i piromani, insomma, in questi particolarmente quest'anno e anche quest'anno ci è tornato, diciamo così, a indagare, a leggere nella testa di chi volontariamente appicca il fuoco nella vostra attività. Avete beccato mai dei piromani e che, cioè, come ve lo siete spiegati? Diciamo che, ripeto, siccome questi sono i piromani, lavorano nel campo degli incendi boschivi, e come sai, gli incendi boschivi, adesso, diciamola che la competenza è un poco stata modificata, adesso c'è una sorta di compartecipazione noi, insieme alla Regione, sugli incendi boschivi, visto che il corpo forestale dello Stato è stato incardinato nell'arma dei carabinieri. Però fino adesso, fino a qualche tempo fa, gli incendi boschivi erano di competenza del corpo forestale dello Stato. Quindi questa attività di, diciamo, di polizia giudiziaria, quindi di cogliere i piromani in flagranza di reato, è un'attività condotta, che è stata sempre condotta, da parte del corpo forestale dello Stato. Ecco, c'è anche da dire un'altra cosa, che rispetto, per esempio, ai piromani, se detto anche, non so, si tratta di leggenda metropolitana, oppure di notizie più o meno verosimili, veicolate dai social, le micce incorporate, attaccate ad animali domestici, come i gatti, per quanto riguarda gli incendi nell'area vesuviana, se si era pensato anche a questo, non ci sono stati, mi pare di ricordare, conferme. Ma è possibile questo? Purtroppo sì, perché l'uso degli animali, in particolare dei gatti, ripeto, purtroppo non riguarda soltanto gli incendi boschivi, ma riguarda proprio gli incendi anche in ambienti interni. Perché? Perché quando si vuole far sì che sia difficile individuare un punto di innesco, in modo da facilitare le indagini per capire la causa di un incendio, appunto il gatto che si muove all'interno di una grandissima cattiveria, che ha una disumanità, assolutamente sì, davvero una disumanità incommentabile, senza aggettivi. Assolutamente, però purtroppo questa è la causa dell'uso di animali per appiccare il fuoco. Dicevamo delle zone pedemontane, delle montagne aggredite dagli incendi, che in autunno potrebbero riservare brutte sorprese. La stessa cosa per i fiumi, l'abbassamento dei livelli di portata e contestualmente rifiuti e scarichi illegali che finiscono per impadronirsi di questi corsi d'acqua, rimasti senza acqua, insomma, adesso è la preoccupazione. Poi in autunno, in inverno, le famose o famigerate bombe d'acqua diventano un forte elemento per i rischi di esondazione. Sì, perché tenga conto che le bombe d'acqua rappresentano una criticità, perché significa tanti millimetri di acqua caduti in pochissimo tempo. Ecco, questa altissima intensità di pioggia potrebbe creare dei fenomeni, diciamo, dei dissessi idrogeologici abbastanza importanti. E quindi questi fenomeni, legati ad una situazione pregressa di assenza di vegetazione o è di mancata pulizia degli alve e quant'altro crea situazione. Evidentemente sì. Abbiamo detto il comando provinciale di Avellino, le cinque sedi distaccate in provincia di Avellino, da sempre potrei dire, se non da molti anni almeno, la carenza di organico e un trattamento economico più adeguato. Sono temi ricorrenti, almeno a mia memoria. Sono questi... Come stiamo messi? Come organico intanto? Beh... Quanti siete? Allora, in questo momento lei ha detto appunto noi abbiamo... cioè nella sede centrale sono operative due squadre più una terza squadra la squadra EB che è destinata nelle ore di urne quindi dalle 8 alle 20 a intervenire soltanto per gli incendi boschivi diciamo una squadra che fa parte della convenzione che è stata stipulata tra la Regione Campania e i Vigili del Fuoco. Quindi in questo momento siamo 15 unità che operano presso la sede centrale più altre 5 unità ognuna per Grotta Minarda, Lioni, Montella, Bisaccia, Canirpino quindi 25 siamo su 40 persone a turno 40 operativi e quindi tutto sommato in questa fase riusciamo ma ripeto perché è una situazione particolare c'è una squadra che viene utilizzata soltanto in questo periodo poi ovviamente è superato il periodo estivo noi ritorneremo nella conformazione ordinaria che significa 35 unità. 35 unità possono essere sufficienti quando non si tratta di situazioni però di fronte a degli eventi ovviamente importanti il vero è che insomma si è stabilita una concentrazione una sinergia di forze ingenio civile protezione civile anche forze dell'ore funziona questa sinergia questo collegamento a livello di non solo di internet ma a livello anche di scambio di informazioni guardi questa sinergia sta funzionando io quando lei parlava mi sono venuti in mente i fatti di Torino quello che è successo in occasione della partita con la Juve i feriti e sa bene che dopo quell'evento c'è stata tutta si è attivato un meccanismo che è partito dalla la chiusura delle maglie si è partito dal capo della polizia Gabrielli che ha emanato una circolare poi anche il nostro capo dipartimento dei vigili del fuoco il prefetto Frattasia diciamo c'è stata effettivamente una forte sinergia tra polizia forze dell'ordine chiedo scusa tra vigili del fuoco forze dell'ordine prefetture comuni per quanto riguarda la prevenzione in occasione di eventi di pubblico spettacolo penso ad esempio a Castellarte penso a Canalarte e tutti gli eventi che comunque ci saranno da qui per tutta l'estate quindi da questo punto di vista mi sento di dire che questo diciamo questa attività di collegamento tra noi e gli altri enti esiste e funziona e devo dire che almeno in questa prima fase sta funzionando anche nel campo degli incendioschi senta l'ingegnere come si diventa perché si diventa vigili del fuoco perché tra l'altro tra diciamo così nelle classifiche del gradimento degli italiani insomma insieme ai carabinieri i vigili del fuoco stazionano nelle posizioni alte della classifica e non è infrequente anzi è sempre più frequente il fatto che quando dice ai bambini che vuoi fare da grande sono sempre di più quelli che dicono io fai il pompiere perché così si chiamano è vero io le posso portare la mia esperienza quando venne il terremoto dell'80 noi la nostra famiglia rimase senza casa perché fu dichiarata inagibile e poi demolita e in quella l'ingegnere Bellizzi è di Avellino in quell'occasione io vidi i tecnici che facevano le verifiche di agibilità che effettivamente svolgevano un lavoro molto molto importante perché sulla base delle loro verifiche sulla base della loro esperienza sulla base della loro competenza professionale erano in grado di stabilire se una famiglia poteva o non poteva permanere in quell'abitazione lì ho capito quale importanza e con di un ruolo tecnico lì ho capito soprattutto l'importanza della protezione civile e dei rigidi del fuoco perché quando io mi sono poi laureato in ingegneria io ho fatto una tesi proprio in ingegneria sismica io ho pensato sempre non a fare la libera professione ma ho pensato sempre la mia speranza c'è una vocazione diciamo la pure era quella di quanto meno di rimanere nell'ambito della protezione civile questo gradimento si spiega anche con il fatto che i vigili del fuoco insomma li trovi li trovi dovunque l'incidente il sinistro stradale come si chiama tecnicamente l'incendio naturalmente ma anche che so il gatto il cane intrappolati da qualche parte insomma è una una provvidenza diciamo così e quindi questo probabilmente ci sono sempre arrivano questo spiega il gradimento ma è un gradimento da parte dei bambini soprattutto tangibile perché se la mattina direi quasi tutte le mattine noi ospitiamo scolaresche non puoi immaginare la contentezza di questi bambini distribuite anche diplomi di ne so qualcosa di mini pompiere quindi c'è tutto un entusiasmo tutto da parte di questi bambini che vivono questa esperienza all'interno della nostra caserna ecco certamente possiamo dire che le sirene dei vigili del fuoco fanno meno paura nel senso che sia pure accorrono rispetto ad una vicenda che può diventare anche pesante e pericolosa però il suono della sirena dei vigili del fuoco diventa in qualche modo rassicurante perché insomma è un corpo altamente specializzato altamente coraggioso altamente tecnicamente strutturalmente capace di far fronte alle tante troppe emergenze che abbiamo nel nostro paese anche la provincia di Avellino non fa eccezione da questo punto di vista e poi se mi permette il lavoro di Vigili del Fuoco è un lavoro che ti riempie la vita ma non è diciamo retorica non è un modo di enfatizzare un lavoro che non ce ne sarebbe neanche bisogno però tutte le volte ad esempio che io mi occupo vado in emergenza per esempio per eventi sismici ricordiamo che anche i Vigili del Fuoco di Avellino rispetto alle emergenze sismiche si spostano e collaborano e danno aiuto nelle zone terremotate dove appunto si è verificato e le esperienze che fai in quelle occasioni veramente poi te ne resta il ricordo per tutta la vita e quindi io capisco i colleghi magari agli operativi che vanno in pensione che una volta anche dopo la pensione non riescono a recidere questo cordone umbellicale col comando per cui partecipano sempre a tutte le iniziative dei Vigili del Fuoco perché comunque forse almeno con la testa non si va mai in pensione da Vigili del Fuoco bene Ingegnere Bellizzi la ringrazio molto per essere stato nostro ospite ci saluti e ringrazio insomma i Vigili del Fuoco e il Comando Provinciale di Avellino delle sedi distaccate per il lavoro che garantiscono e assicurano alle nostre comunità e al nostro territorio buon lavoro speriamo di poter fronteggiare con sufficiente sicurezza le emergenze che dovessero continuare a registrarsi a capitare anche nella nostra provincia grazie quindi all'ingegnere Mario Bellizzi grazie a lei responsabile della comunicazione dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino grazie a Silvana Piccariello che ha curato la regia di questa puntata e soprattutto grazie a voi che avete voluto seguirci anche oggi nel frattempo fate un buon fine settimana magari al fresco arrivederci grazie a tutti